vai avanti allora intanto saluto tutti i colleghi e gli amici ho visto sono tantissimi che sono in linea cioè non ho il tempo di salutare tutti alcuni li ho visti quindi come ho detto a Giorgio è un'altra cosa fare un congresso dal vivo perché c'è queste energie che si fondono si conoscono nuove realtà, nuovi colleghi negli anni che Giorgio ha organizzato e anche altri amici diciamo che cui poi con Giorgio abbiamo conosciuto in questi ultimi vent'anni ultimi ho detto perché ce ne saranno altri venti di sicuro abbiamo avuto la possibilità di conoscerci di incrociare le nostre culture però questo in attesa è un modo diciamo anche alternativo di poterci comunque rapportare ti ripeto, vi ripeto a tutti non è la stessa cosa che essere veramente fianco a fianco essere a contatto però accontentiamoci per ora di questa come dicevo di Anza anche quando c'era Francesco in linea e la Marta la cosa bella è che puoi fare una lezione una conferenza e ci sono anche gente che partecipa da Los Angeles teoricamente quindi questa può essere un vantaggio iniziamo subito l'argomento che che mi è stato affibbiato diciamo guardate l'ho accettato come sfida l'ho accettato come sfida però è un argomento veramente abbastanza in progress questo è importante capirlo perché soprattutto in questo momento il ruolo del sistema immunitario collegato all'ipossia all'infiammazione è diventato cruciale cruciale capire anche qual è la sua importanza a livello diciamo tutto quello che è il network fisiopatologico intanto diciamo subito partiamo dal concetto dell'ipossia perché giustamente come ha detto Giorgio nel 2019 è stato dato il Nobel e quindi mi sembra più che giusto e guarda caso sembra uno scherzo del destino dopo l'assegnazione del Nobel ai meccanismi in cui la cellula si adatta all'ipossia più o meno spinta dopo pochi mesi si è verificata poi l'infezione dal Covid di 19 che lo sapete è la SARS-2 praticamente dove appunto l'evento fisiopatologico importante è proprio la crisi respiratoria ma su quello poi Giorgio sto che sta organizzando alcuna cosa per il sabato prossimo non ho voluto più anticipare niente perché vorrei farvi vedere dei dati abbastanza importanti una radio che è uscita e non solo scambiando anche opinioni con amici sia dello Spallanzani che dell'ordine medicino ma i meccanismi fisiopatologici sono abbastanza veramente particolari il Covid ma ci torneremo quindi vedete quest'articolo famoso che è uscito anni fa su New England Journal of Medicine che diceva che ogni tanto fa delle radio che siano meccanismi della malattia molto belle veramente infatti conviene leggere queste radio un'altra per esempio radio che fa questa importantissima rivista è anche per esempio Drag Therapy dove ogni tanto fa queste rassegne dice semenza proprio semenza rivelazione di ossigeno omeostasi in malattia perché insieme a Radcliffe e l'altro collega che poi vedremo anche dopo citati per il Nobel capirono che le cellule si possono adattare a condizioni di possia attivando specifiche vie di segnalazione intracellulare e tra questi diciamo una serie di fattori proprio che vengono trascrizionalmente diciamo prodotti a livello nucleare e sono appunto chiamate una classe HIF fattori ipostri diciamo indotti dall'ipostia HIF1 2 e 3 è stato soprattutto studiato l'HIF1 ma vi assicuro che in questo momento anche l'HIF2 e 3 sono veramente gli studi sono veramente in progress perché hanno visto che c'è una intercorrelazione molto importante tra di loro il più conosciuto comunque studiato come semenza e l'HIF1 bene lui ha due subunità è un eterodimero quindi uno si chiama alfa che è la subunità che è l'espressione sensibile alla concentrazione di ossigeno cellulare quindi vuol dire che diciamo viene espresso in funzione della concentrazione l'altra subunità che invece è beta è l'espressione costitutiva quindi presente già nel nucleo presso che in cui di tutte le cellule vedete per esempio questo grafico dove si vede chiaramente che in funzione sulla scissa c'è la concentrazione di ossigeno quando questa aumenta l'espressione di HIF è invece inibita al contrario a bassa concentrazione quindi se dalla scissa ci spuntiamo verso sinistra vedete c'è la massima espressione si sta parlando però vedete questo qui diciamo cala in modo esponenziale quando aumenta la concentrazione di ossigeno e il flesso si verifica proprio pensate a una concentrazione decisamente bassa 4-5% di quello che è diciamo la necessità della più o due cellulare questo è un lavoro tratto da semenza allora entriamo nel meccanismo io ho fatto vedere questa per capire meglio il meccanismo di questo fattore ipossico indotto all'ipossia non so se si vede ecco si vede il mio puntatore ecco spero di sì comunque guardate allora nella parte vedete che l'HIF1 alfa quindi questa subunità in funzione della concentrazione di ossigeno può avere due tipi di partner attenzione mettiamo caso ci sia una situazione appunto di normossia o comunque di un'ipossia molto moderata cosa succede vedete che c'è una specifica idrossilasi la prolina idrossilasi questo ci fa pensare anche vedremo anche come Mauro Mauro stai più vicino possibile al microfono sì mi sentite così mi senti Giorgio mi sentite sì sì ti sentiamo vai ora va meglio ok dicevo appunto nel caso della vedete questa subunità 1 alfa che è la prolina idrossilasi cosa succede introduce due gruppi ossidrili nella subunità viene idrossilata e questo permette che cosa permette che un suppressore che si chiama Vonippe-Landau lo blocchi a modo proprio di guardate tipo come se fosse un di fatto è un incastro un lucchetto in questa maniera questo suppressore tumorale pensate un suppresso tumorale che tra l'altro appunto risiede in un gene specifico fa sì che lo renda poi diciamo pronto ad essere mediante un attacco di un enzimatico esercitato da ubiquitinasi essere poi diciamo convogliato verso il proteasoma una distruzione cellulare naturale quindi questo qui è un modo di controllare l'attivazione di questo fattore ripossio e ripeto che poi questo fattore ripossio comunque è utile è molto utile a seconda della concentrazione la cellula non è che lo deve completamente anzi vedremo quando si parla del sistema immunitario viceversa se questo ma se la ipossia diventa spinta c'è un accumulo intracellulare di questa subunità che ne permette aumentando la concentrazione citoplasmatica di migrare nel nucleo dove incontra il suo gemello la famosa subunità uno beta questi si uniscono e quando si uniscono veramente si forma il famoso hif completo l'eterodimero stabilizzato questo permette a livello nucleare a livello ovviamente del DNA la trascrizione di una serie di fattori qui vi ho fatto vedere uno per esempio che è il molto importante il fattore diciamo di crescita dell'endotelio dell'endotelio vascolare per esempio allora attenzione allora uno dice ma un momento se si va a guardare esattamente il meccanismo molto interessante questo quando si uniscono questi due gemelli ci sono anche dei cofattori che sono proprio si chiamano proprio CBP300 e PUL2 complex cioè loro sono degli coattivatori che favoriscono per il fatto che l'eterodimero poi vada ad agire in modo trascrizionale sulle sequenze specifiche presenti nel DNA sono degli elementi regolatori dell'ipossia sono chiamati HRE e questi poi ovviamente promuovono tutta una serie di ovviamente trascrizioni che portano poi vedete all'angiogenesi a una mutata via glicolitica a una proliferazione cellulare la formazione di altri fattori di crescita a cui appunto quello dell'endotelio vascolare ad esempio quindi l'angiogenesi in questo caso allora uno lo dice ma questi idrossilasi da che cosa sono dipendenti? C'è certo dall'ossigeno ovviamente ma guardate se voi vedete anche dal ferro bivalente dall'alfacritoglutarato che ovviamente sappiamo è presente nel ciclo di Krebs e soprattutto qui appunto l'accento sull'ascorbato la vitamina C ma poi vediamo smettiamola di parlarla come vitamina C vediamola come moleola perché poi ne parleremo allora quindi vedete che con questo fattore come si è detto l'HIF si accumula trasforma nel nucleo e poi con alcuni fattori il CBP riesce ad attivarsi e vedete che se guardate c'è pensate anche un altro fattore cioè avete visto che c'è la idrossilasi che regola il discorso di diciamo mandare l'HIF verso il destino del proteasoma ma c'è anche pensate un'altra idrossilasi si chiama FIH1 attenzione perché l'hanno chiamata così per non confondertla con l'HIF è una sparagina idrossilasi la vedete alla destra che è sensibile anche questa come la sua l'altra idrossilasi all'ossigeno al otto clutarato al febbre e pensate nella blocca il legame invece dei famosi coattivatori presenti nel nucleo quindi vedete bellissimo il gioco delle famose prolini idrossilasi di idrossilazione e tutte e due vi ripeto sono favorite dall'ascorbato attenzione quindi alla vitamina C allora qual è diciamo l'effetto il gioco metabolico attenzione allora qual è il primo effetto l'HIF attenzione blocca l'ingresso del piruvato nel mitocondrio e quindi favorisce la trasformazione dell'attacco questo significa attenzione noi dalla le colise aerobica elastica abbiamo la produzione del piruvato dell'acido piruvico ma naturalmente per poter poi shiftare verso quella che è la fosfoliazione ossidativa passando dal ciclo di Krebs si deve entrare in mitocondrio ma per fare questo deve essere trasformato come tutti sappiamo nella forma dell'acido acetico attivato quella dell'acetico enzimale che la reazione delta G è favorita pensate che l'HIF quando attivato incredibile attiva una kinasi che si chiama piruvato di idrogenasi kinasi e voi mi direte o cioè attenzione la fosfoliazione spesso ha un effetto allora cosa accade in questo caso accade che entrando bloccando questa diciamo la il la piruvato di idrogenasi che favorisce trasformazione l'acido lattico obbligatoriamente la via cellulare va verso la via glicolitica questo è importante capire e allora vedete famosa review apparta su science nel 2009 meravigliosa che fa vedere la differenza l'effetto Warburg effetto Warburg cari amici colleghi che adesso proprio guardate questa è stata un lavoro sulla radio su science del 2009 dieci anni esatti è stato riconosciuto la validità della teoria di Warburg che tanti avevano screditato e qui lo voglio dire davanti a tutti e che invece dopo dieci anni è stata nettamente rivalutata col premio 9 e cioè nel momento in cui si ha questo blocco si ha lo shift verso la via glicolitica cosa che usa proprio la cellula tumorale e che grande Warburg l'aveva visto nel 1931 tra parentesi voglio ricordare che Warburg era anche il maestro di Krebs tanto per dirne una era un suo allievo allora attenzione allora vi mi direte guardate il gioco veramente perverso a volte che fanno gli HIF da una parte parte sinistra si ha uno shift glicolitico clamoroso che porta verso la produzione enorme di lattato quindi all'acidosi e dalla parte esatta parte vedete che c'è presente proprio come abbiamo detto poc'anzi il fatto che la piruvato di idrogenasi venga bloccato dalla specifica kinasi e non si abbia più quindi il ciclo di Krebs che porterebbe alla produzione dell'ATP immediante la catena mitocondriale ma allora non solo ma guardate l'H l'altro fratello attenzione non il gemello il gemello era la sua unità questo è il fratello HIF2 gioca sul metabolismo lipidico cioè perché uno dice va bene tu non mi fai entrare nel mitocondrio ma io attivo la beta-ossidazione degli acidi grassi e no perché il suo fratello l'F2 alfa mi blocca anche questa tutta il suo pro cioè me la blocca per fare invece una biosintesi di nuovi lipidi e contemporaneamente guardate l'altro fratello quello classio invece favorisce pensate la via di pentoso fosfati per produrre per esempio nuovi nucleotidi che ci fa pensare quindi a una proliferazione cellulare allora vedete il ruolo nel metabolismo una variazione della spurtazione di glucoside a livello cellulare glute 1 e glute 3 il gioco sulla variazione l'attivazione di enzimi della via glicolitica e come si è visto anche la produzione specifica di una kinasi che ne blocca poi l'utilizzazione del piruvato a livello mitocondriale inoltre vedremo la diciamo l'attivazione di specifici trasportatori degli acidi monocalbossilici e del protone e dell'anità di carbonica vedete perché il perché è abbastanza ovvio perché se pensate che c'è una acidificazione potente a livello intracellulare abbiamo bisogno di mettere in atto di meccanismi che possano riequilibrare questa situazione altrimenti avrebbe nell'intracellula una situazione di acidosi non compatibile con la vita tuttavia nel microambiente circostante la famosa matrice che di anzi Giorgio citava l'organo famoso scoperto quando si venisse fuori sta notizia una o due anni fa io dissi beh hanno scoperto l'acqua calda perché i giornali i giornali no dice scoperto un nuovo organo vabbè cioè ha detto per voi tutti noi lo sappiamo da tempo cioè l'importanza della matrice ecco lì lì si gioca invece il famoso microambiente che poi può creare una situazione di sviluppo tumorale e allora ecco il premio Nobel allora ecco che giustamente Semenza Radcliffe e Kellen hanno avuto pensate esattamente a distanza di 10 anni al famoso Radio Su Science e quasi cent'anni dopo Warburg esattamente 90 anni dopo il premio Nobel di Warburg quindi questa è una conferma che a me a Giorgio ha fatto veramente che da anni veramente cioè quando Giorgio me l'ha comunicato mi sono guardate colleghi mi sono veramente commosso ho detto adesso vediamo come verrà applicato però perché un conto sia teorico un conto è l'applicazione attenzione era uscito già su Inuying da questa bellissima radio ipossia e infiammazione due facce della stessa medaglia e perché noi sappiamo tutti che una delle fitochine più cattive che possono esistere nel fiammatorio fisiopatologico la sua implicazione nella malattie croniche è veramente micidiale guardate cioè non è qui il momento di parlarne ma molti di voi quasi tutti a livello più o meno profondo e allora attenzione Joe questa è una radio che è uscita poco prima proprio pochissimi anni fa e quattro anni fa sempre sul famoso New England che fa vedere proprio cosa accade attenzione guardate sulla parte sinistra qui è presa una cellula poi vedremo che è il macrofago in modo specifico sulla parte sinistra abbiamo il meccanismo che abbiamo appena riscritto che riguarda l'attivazione del fattore fossilo vedete le famose due subunità che trasdogano nel nucleo ma sapete cosa succede cosa che non vi ho detto aspettavo un po' tutta la ciliegina sulla torta ovvero quando trasdogano nel nucleo attiva una serie di fattori trascrizionali tra i quali pensate proprio il nuclear factor Kb quindi ipossia produce favorisce la trascrizione di quello che è forse il maggiore citochina il maggior fattore trascrizionale potente nel processo inchiamatorio avvicinati bene al computer se no non si senti ok dall'altra parte invece ora mi senti Giorgio sentite allora dall'altra parte invece attenzione dall'altra parte abbiamo che questo non ha fatto il Kb generalmente che è fatto da due subunità è bloccato da un inibitore il Kb il Kk attenzione però questo inibitore questo lucchetto che lo blocca che cosa accade ci può essere in una situazione invece importante l'Hif pensate e dunque sblocca in pratica fa sì che una subunità polipeptidica sblocchi questo inibitore praticamente inibisce l'inibizione pensate l'Hif va a inibire l'inibitore del nuclear fattor Kb che anche lui è costituito da due subunità la P50 e la P65 allora lui dice se tu mi sblocchi se io mi sblocco più il lucchetto trasmigro nel nucleo e faccio una mia bella azione vedete la subunità che passa nel nucleo e pensate sapete lui che cosa fa a livello di trascrizione nucleare mi va a produrre l'Hif quindi pensate il gioco perverso l'uno favorisce l'altro è incredibile questa una bellissima regio veramente allora uno dice questo andiamo a vedere adesso più uno specifico discorso immunitario quindi ipossia infiammazione immunità io mi ricordo quando una volta la scuola specializzazione ben 30 anni fa anzi eh sì più di 30 anni fa il professor Livotto l'asfollogo di Firenze disse una lezione guardate finora siamo stati abituati a vedere la fisiopatologia la patologia generale come coagulazione infiammazione immunologia tumore è tutto un unicum e lo diceva il professor Livotto mi ricordo queste bellissime lezioni che ci faceva dell'85 86 di fatto se vedete oggi un testo di patologia è veramente un complesso unico cioè prego tutti di fare un confronto tra i vecchi testi di patologia degli anni 80 70 tipo il Barth Israel per fare un esempio e l'attuale Rubin per vedere che veramente è raddoppiato e come si hanno cambiato le concezioni allora quando si parla di ruolo l'ipossia nel discorso immunitario attenzione perché è dipendente dal gradiente di ossigeno e vedete che può giocare su tanti fattori per esempio la produzione a livello diciamo del centro germinale di cellule la produzione di beta cellule sulla variera diciamo quella la variera della mucosa intestinale quindi il ruolo diciamo immunitario a livello intestinale sulla produzione anche di EPO sulla produzione anche di quella che è l'omeostasi le cellule staminali ma vediamo un ruolo molto importante guardate questa slide l'ho presa una bellissima review recente uscita all'inizio del 2018 e parla proprio di questo allora le cellule immunitarie sono o residenti o possono essere reclutate dal sistema circolatorio ricco di ossigeno in ambiente fisiologicamente icossico tipo per esempio mucosa intestinale e tessuto limpoide o in ambiente immunitario patologicamente icossico si vede il caso di tumori tessuti particolarmente infetti infiammati o ischemici di conseguenza in ambienti fisiologicamente icossici l'HIF o anzi meglio dire gli HIV contribuiscono all'omeostasi innata e adattativa delle cellule immunitarie mentre l'ipossia patologica la segnalazione HIV può innescare danni quindi guardate l'illustro vi fa capire che dipende dal gradiente di PO2 ecco perché vi sto dicendo che la cosa è veramente interessante e in progress questa allora in tattica l'ipossia ha un impatto veramente un impatto importante quindi nella via di segnalazione dell'HIF sul destino e sulla funzione delle cellule immunitarie inclusa la sovra regolazione dell'espressione genica glicolitica dopo l'attivazione di diversi cellule immunitarie nel senso che allora guardate un'adeguata risposta immunitaria richiede infatti una rapida produzione dell'ATP utilizzando la glicolisia aerobica al fine di generare sintesi di lipidi aminoacidi o nucleotidi che sono necessari alla rapida proliferazione cellulare e per la funzione anche effettrice stessa delle cellule immunitarie tuttavia è probabile che questo immunometabolismo chiamiamolo così immunometabolismo non sia solo una produzione legata all'ATP si può presumere per esempio che sia un rimodellamento metabolico che sia la base del fenotipo delle cellule immunitarie in diversi modi è importante però sottolineare che questa funzione delle cellule immunitarie adesso andiamo a vedere può essere modificata attraverso l'impatto dell'HIFA su varie altre vie metaboliche diverse dalla regolisi per esempio biosintesi dell'acido grafici il ciclo dell'acido tricarbossilio quindi il Krebs l'aria triventoso fosfati o anche il metabolismo degli aminoacidi allora guardate questa bella slide anche questa è stata trotta da è un gioco proprio l'ipossia collegata al patto immunitario è stato chiaramente infatti dimostrato dell'HIFA un importante regolatore della funzione delle cellule immunitarie ma non poteva e non essere altrimenti questo collegamento tra ipossia immunitaria impiammazione visto adesso è ampiamente mediato da cambiamenti che sono HIF dipendente del metabolismo delle cellule immunitarie questo è il cambiamento della funzione effettrice delle cellule immunitarie stesse pertanto diciamo che l'HIF è un prodotto importante come un perno tra immunità alterata e il metabolismo cellulare e la funzione effettrice ed è una chiave regolatrice proprio dell'immunità e l'infiammazione quindi l'HIF si pone tra infiammazione e diciamo funzione effettrice del sistema immunitario l'impatto dell'HIF sulla funzione effettrice questo è importante guardate varia a seconda del grado di fossia uno questo è importantissimo è il tipo di cellula immunitaria che è coinvolta per esempio i neurotrofili vedremo adesso la via dell'HIF promuove la sopravvivenza cellulare mentre nei sottotipi per esempio dei matropaci M1 e M2 regola l'equilibrio tra pro-infiammatorio e anti-infiammatorio M1 e M2 negli infociti B per esempio qui si figura l'HIF regola la funzione delle cellule immunitarie effettrici in modo dipendente dal tipo di cellula il ruolo dell'HIF nei singoli quindi diciamo tipi di cellule immunitarie è complesso e può essere sia pro- o anti-infiammatorio a seconda del contesto dell'attivazione e della concentrazione di ossigeno presenti in loco tuttavia un certo numero di studi però questo lo devo dire ha dimostrato che l'attivazione farmacologica di questo patto e guida questa via metabolica questo patto chiamiamo questo network per un risultato che generalmente gioca a livello dell'anti-infiammatorio che è stato dimostrato anche in modelli di infiammazione intestinali nelle lesioni per esempio da radiazioni nelle sepsi nelle situazioni tra pianto renale o anche infazioni batteriche sperimentali e quindi solleva la possibilità sempre di riproporre pensate gli inibitori e l'idrossilasi con una nuova classe di farmaci infiamma antifiammatorio e vedete aspettate adesso vado avanti ecco oh guardate adesso il macrofago il grande terreno di battaglia allora noi conosciamo la polarizzazione di un macrofago sono delle cellule veramente sapete l'immunità innata importantissime mononucleate di trasformazione dai monociti e circolanti che può essere divisa in M1 classici vedete la parte sinistra M2 regolatori sono attivati classicamente gli M1 per esempio svolgono un ruolo importante nella prima linea di difesa contro le infazioni batteriche che producono grandi quantità per esempio di ossido nitrico quella che è la famosa nitrosso sintetasi inducibile non quella endoteliale sia diverso attenzione al contrario per esempio l'attivazione del fenotipo di tipo M2 alternativo ha un ruolo importante nella guarigione delle ferite riparazione dei tessuti risoluzione dell'infiammazione vedete che sono attivati nel secondo caso per esempio nel caso dell'attenativa attivata dall'interleuchina 4 la 13 nell'altro caso per esempio giustamente da situazioni di citochine tipo l'interferone gamma o anche molecole per esempio nella cellula batterica la membrana tipo il lipopolisaccaride quindi importante è che in un processo infiammatorio ci sia poi la riconversione dell'M1 verso l'M2 affinché ci sia una risoluzione adeguata l'infiammazione o per esempio una guarigione anche delle ferite vedete infatti questa slide che vi ho messo apposta tanto poi penso che Giorgio ve le passa dove le passerò io dove c'è proprio la differenziazione del monocito in questi due tipi che è più dettagliata affinché si possa vedere diciamo non solo diciamo tutte quelle che sono le citochine e i fattori che attivano una o l'altra diciamo via di polarizzazione del del macrofago trasformato dal monocito ma anche le funzioni vedete che fondamentalmente il fenotipo M1 ha un'azione pro-infiammatoria anche battericida cioè effagocitaria importante viceversa l'M2 ha anti-infiammatorio vedete la funzione anche diciamo fattori genici per la risoluzione per esempio delle frite almeno quando siamo in situazione fisiologica è una situazione anche vedete anche di guarigione totale della risoluzione di pol-matorio allora attenzione vedete come cosa succede nel pol-sia voi mi direte che vuol dire questa freccia verde e freccia rossa in presenza di HIV adeguato assente cioè come se ci fosse poi una non-produzione totale allora nel primo caso giustamente quando si attiva un meccanismo di pol-sia chiamiamola adeguata fisiologica c'è una polarizzazione dell'M1 perché adesso scusse il terrasso senza che parla della cellula silenziate i microfoni per piacere e poi appunto quelle che possono essere le funzioni protumorali un aumento della glicolisi la fagocitosi e un'azione che fondamentalmente produce l'immatoglio con l'espressione chimica al contrario quando c'è invece un'assenza totale vedete che tutto riguarda una produzione ma questo significa proprio che non viene assolutamente riprodotto l'HIF ma che si vada verso una ipossia molto molto spinta in questo caso vedete che le funzioni sono decisamente le funzioni del microfago sono decisamente ovviamente cambiate e vanno verso ovviamente una non anzi a tutt'altro una funzione effettrice valida per il microfago che è quella attenzione allora ritorno a questa il microfago quando prima vi ho fatto vedere il famoso network due facce della stessa medaglia infiammazioni forse eccolo qui vi faccio vedere è proprio il microfago il modello cellulare riferimento dove avviene quel discorso che vi dicevo in cui c'è lo sgancio praticamente lo sblocco del lucchetto da parte diciamo del nuclear factor KB vedete che danno una mano si danno una mano con l'HIF vi ho visto prima la famosa raybio che vi ho fatto vedere la figura estratta dal New England vedete quindi l'attivazione del nuclear factor proprio nel microfago direttamente attiva l'HIF che a sua volta lui attiva il 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 sbloccando la sua inibitore allora guardate prendiamo l'immunità innata i neotropoli sono granulociti sapete tutti di breve durata sono i primi lecociti a migrare nel sangue circolante verso i siti feriti o infetti e loro hanno un ruolo cruciale quello di uccidere i patogeni attraverso il rilascio di granuli antimicrobici attivando anche citochine come il tumor agresifatto l'interlochina una interferoni defenzine e soprattutto i rossi le specie relattivi dell'ossigeno i neotropoli rimuovono i detriti cellulari sappiamo che sono in grado di generare anche trappole stracettari e degradare per i fattori di virulenza e uccidere i batteri e vedete che in questo caso i risultati sperimentali hanno dimensato l'importanza di una via di segnalazione specifica hif funzionale neotropoli che ne favorisce la riprogrammazione metabolica e la funzione ma tutto questo l'attenzione è funzione della concentrazione di ossigeno studi sono in atto per capire esattamente l'immunometabolismo infatti anche qui nel caso ci sia un hif completamente abolito che significa completamente quindi bloccato per formare per esempio un'ipossia molto spinta tutte quelle funzioni che vediamo per esempio c'è la formazione da atp come si è visto prima anche la migrazione l'invasione l'aggregazione la motilità dei neotropoli è completamente inibita quindi guardate come l'ipossia se è fisiologica è una cosa se è patologica è un'altra vedete anche quest'altra slide vedete che i legociti reclutati di tessuti infetti danneggiati o infiammati durante una risposta immunitaria devono adattarsi a livelli d'ossigeno molto inferiori a quelli della circolazione i famosi hif quindi sono i mediatori chiave di questa risposta a l'ipossia se è visto e sono fondamentali per la sovraregolazione le cellule immunitarie di produrre l'ATP in modo anaerobico un numero crescente infatti di studi ha dimostrato che l'ipossia regola anche molte altre funzioni immunologiche innate tra cui migrazione cellulare la pautosi la pavocitosi dei patogeni la presentazione dell'anticene per esempio anche il famoso mch e la produzione di citochine chemochine e i fattori angiogenici tutte queste funzioni sono mediate sempre dell'hif in virtù della concentrazione dell'ossigeno e non sono non solo stabilizzati post-trascrizionalmente all'ipossia ma pensate anche sopraregolati dai meccanismi di segnalazione infiammatoria quindi a questo punto vedete questo slide che lega proprio infiammazione ipossia e immunità e vedete per esempio questo è un esempio il neutrofilo che si è disponuto prima la via alternativa esattamente come si era visto nel caso specifico dell'esempio iniziale si va verso la via decisamente glicolitea diciamo mimante l'anaerobico con grande produzione di lattato in caso di fossia veramente spinta allora guardate i lipociti per esempio per fare un altro esempio allora in questo caso la funzione principale contro la risposta immunitaria adattativa contro infezione e cancro si differenziano le varie sottopopolazioni sappiamo i CD4 helper le cellule T citotossiche CD8 la stimolazione delle CD4 native con gli antigeni specifici segnali di citochine presenti nel microambiente provoca sappiamo la differenziazione cellulare delle diverse sottopopolazioni che possono essere TH1 TH2 TH17 o le fie regolatorie attenzione anche questo come andiamo a vedere dopo che fa la presenza dell'HIF lo vedete in senso positivo con l'ipossia lattativa fisiologica in senso molto negativo quando invece si ha vedete una spinta ipossia che porta alla situazione invece che purtroppo addirittura in questo caso proprio la funzione che hanno l'ipociti porterebbe anche alla possibilità di una tumorigenesi e a favorire una vascularizzazione angiogenetica nel caso del tumore il caso anche delle cellule B vedete che l'ipossia e la via di segnalazione dell'HF aumentano il metabolismo biolitico di questo tipo di cellule dal centro germinale che influenza la proliferazione delle cellule B la produttosi e la produzione di anticorpi però attenzione anche qui è un discorso che riguarda fondamentalmente la concentrazione di ossigeno infatti vedete adeguata le sue funzioni diciamo possono essere ovviamente anche sovraregolate ma quando questa via è veramente molto spinta si ha invece un'azione che è ovviamente compromessa che porta addirittura pensate a una situazione ben opposta e cioè al riconoscimento del non del self al non riconoscimento del self in pratica una situazione di disregolazione delle bicellule che porta poi alla malattia autoimmunitaria e questa lipossia ha comunque nei studi che stanno facendo dal 2016 un ruolo importantissimo in questa situazione pensate anche alle cellule dendritiche che non sono altro tutto sommato anche questi sono dei macrofagi sono vedete che dei globoli bianchi io ve l'ho scritto che attivano il sistema unitario sono delle sentinelle che praticamente catturano gli anticidi e le espongono proprio all'azione dei linfociti T sono residenti a livello di quei tessuti che furono un po' da barriera con l'ambiente esterno quindi diciamo sono più facilmente aggredibili anche degli agenti patogeni tipo la mucosa natale appunto quella polmonare intestinale la cute mentre la pelle hanno il ruolo di avere proprio cellula sentinella d'altra parte questo non sono altro che delle sorelle cellule identifiche degli stessi macrofagi di fatto una differenziazione dei macrofagi la realtà epatica sono le cellule del cuffe o la microglia per esempio nel sistema nervoso centrale e anche qui vedete l'azione può avere l'importante che quando c'è una funzione fisiologica un'ipossia adattativa si possa avere in vedere tutta una serie di attenzioni positive sul ruolo sentinella come qui mostrato io vi ho estratto proprio queste figure pensate a una review che era una review che riguardava proprio immunometabolismo e HIV proprio una review uscita meno di due anni fa vi ripeto sono tutti studi molto importanti che stanno collegando adesso alla faccia anche del premio Nobel tutto il ruolo che hanno le cellule immunali e l'era l'infiammazione o la liposia molto interessante anche questo perché riguarda le cellule ad esempio l'infodi innate abbastanza recenti oltre le cellule NK che hanno un ruolo molto importante nell'organogenesi l'infodi l'omeostasi la difesa del tessuto epiteriale nonché anche nell'amplificazione delle risposte infiammatorie ed è stato proprio scoperto che l'ipossia tumorale per esempio molto spinta ha causato proprio la riduzione del potenziale citotossico di questi tipi di cellule in particolare con conseguente riduzione ovviamente risposte che ha permesso la formazione di metastisi negli organi secondari allora guardate questa bellissima tratta sempre da un New England in florenza l'ipossia nei sistemi immunitari innati e adattativi una specie di assunto vedete nell'esempio mostrato in questa figura che è proprio estratto l'epiterio a sinistra viene violato dall'invasione di agenti patogeni causando quindi danni ai tessuti come risultato di cellule come risultato finale diciamo poi le cellule immunitarie innate montano una risposta di difesa all'ospite che viene poi amplificata dalle cellule immunitarie adattative declutate ossia amplifica l'attività di quelle immunitarie le cellule immunitarie innate e sopprime quelle del sistema immunitario adattativo in pratica significa promuovendo la differenziazione delle cellule T regolatorie la regolazione negativa della funzione delle cellule T CD4 4 elpe e delle cellule T citotossiche CD8 e ovviamente questo in difesa dell'ospite che potrebbe altrimenti portare a danni ai tessuti collaterali quindi vedete questa situazione diciamo di differenziazione già con un'ipossia fisiologica esercita sull'immunità di tipo innato e adattativo guardate anche questa il ruolo dell'ipossia nell'infiammazione che riguarda sempre le cellule l'aumento del consumo di ossigeno diminuzione dell'offerta determina questa ipossia tessutale nei siti cronicamente infiammati l'ipossia determina l'attività dell'HIF nelle reti immunitarie proprio residenti e reclutate che altera la funzione delle cellule immunitarie e di conseguenza influenza anche l'attività infiammatoria questa ipossia chiamata infiammatoria quindi si può definire un risultato della combinazione da una parte la domanda dell'ossigeno mediante l'infiltrazione di cellule infiammatorie per esempio come i neotrofili che avevamo visto prima in combinazione con la diminuzione della fornitura di ossigeno risultante all'infiammazione correlata alla disfunzione vascolare i neotrofili in particolare sono infatti abbiamo visto prima proprio consumatori dell'ossigeno sprenati soprattutto per stili di infiammazione che lo usano in parte anche come basso ossidativo in generale anche per produrre i famosi ROS per uccidere appunto l'invasione degli agenti patogeni pertanto queste cellule immunitarie in un microambiente infiammatorio sono frequentemente esposte a significativi livelli di fossia in particolare si può dire quindi che questo basso ambiente di ossigeno è marcatamente diverso dall'ossigeno più abbondante e che queste cellule sperimentano regolarmente nella circolazione prima di essere diciamo reclutati in un locus in cambio causa diversità proprie azioni e vedete che in questa scusate ecco questa è una slide veramente particolare che tra l'altro sarebbe adatta anche al momento sarebbe adatta al momento perché si sta parlando qui del ciclo cuore polmone e infatti se Giorgio organizza non so stava settimana mi servirò di parlare di questa situazione specifica legata al covid-19 allora guardate la relazione interdipendente tra l'ipossia e l'infiammazione avviene a organi vitali vedete che qui è chiaramente visibile l'esposizione all'ipossia ambientale innescono la risposta infiammatoria accusa in diversi organi incluso certamente ad amorene intestino il cuore polmone particolare l'infiammazione indotta dall'ipossia può manifestarsi vedete con una maggiore perdita vedete poi la sinistra vascolare con alcuno di cellule infiammatorie negli organi tipo ipossico e con il rilascio di mediatori veramente importanti vedete qui per esempio il tumore così fatto l'interlochina 6 l'interlochina 8 anche allo stesso tempo come si guarda per esempio in questo altro specifico il danno polmonare acuto l'infiammazione associata ad un'ipossia tessutale causata da aumenti drammatici veramente drammatici a richiesta di metabolizie di ossigeno da parte di cellule residenti per esempio gli endoteli polmonari e vascolari e reclutati infiammatori e quindi creano le cellule infiammatorie per esempio gli endoteli come abbiamo visto tanto bisogno di una precisità di un'azione killing è proprio una situazione che purtroppo si adatta alla situazione in quale il covid allora guardate diciamo subito una condizione che è diffusa nei tumori noi sappiamo molti tumori hanno una più o due veramente bassa e la capacità di adottarsi all'ipossia è essenziale per la crescita tumorale l'HIF correla molto bene con la vascularità tumorale tant'è che l'espressione dell'HIF Mauro non si sente bene devi avvicinarti di più allora vi avvicino allora diciamo che ora mi senti? ora si allora l'espressione dell'HIF vedete è positivamente correlata alla vascularità tumorale vedete che è dipendente guardate la pressione parziale dell'ossigeno bravo dell'ossigeno ma guardate quando è che si sviluppa i fattori di crescita vascolare proprio quando siamo sotto il famoso flesso che avevamo visto sotto un millimetro di mercurio a livello intracellulare significa che siamo in una situazione di fossia molto molto avanzata una situazione importantissima che favorisce un'angiogenesi una situazione che favorisce un microambiente tumorale importante e vedete proprio i microambienti tumorali i meccanismi portano un pH basso perché è correlato dall'acidosi per lo shift metabolico dell'effetto Warburg il TME si vuol dire microambiente tumorale come sigla il basso apporto di ossigeno all'attivazione degli oncogeni aumentano la glicolisi provocando a sua volta l'espressione dell'HIF e tutti questi percorsi portano all'accumulo di protoni e questo si era visto l'acidificazione sì c'erano delle pompe che regolavano l'intracellulare ma extracellulare nella matrice l'acidificazione del microambiente allo stesso tempo l'HIF promuove l'attivazione di tutti geni come si è visto inclusi quelli che codificano la regolazione del pH e contribuiscono all'ulteriore acidificazione del microambiente esterno allora guardate guardate la bellissima slide basso ma Mauro non so perché ma le tue slide si vedono un po' sfocate ma le manderemo poi a tutti sì no questa è un po' sfocata ok 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 ma solo questa però solo questa poi le altre le mandiamo poi mi mandi il file a me e io lo mando a tutti certo allora un basso pH del microambiente tumorale funge da scudo di protezione globale per le cellule tumorali infatti vedete guardate questo bellissimo slide la città tumorale agisce come un ampio meccanismo di immunizzazione mediante il quale le cellule tumorali stesse spazzano via simultaneamente l'attività di tutti gli effettori immunitari antitumorali pensate in situazioni come si è visto prima cellule T cellule NK le cellule che presenziano antigene russale come quelle dendritiche favorendo allo stesso tempo l'accumulo e la conversione delle cellule T regolatorie e quelle mieloidi in cellule immunosuppressive e protamurali il H2 il protone e il lattato potenziati da comuni fattori trainanti rappresentati all'icossia dalle vie dismetaboliche creano ulteriormente un ambiente ostere le cellule T mentre le cellule T possono sopravvivere grazie a una riprogrammazione metabolica specifica e a un'espressione sull'errore membrana delle cellule diciamo l'espressione di regolatori del PH quindi pensate quanto il basso PH con un'espressione generi questa specie di network negativo con diciamo il gioco sulle cellule immunitarie allora arriviamo un po' al dunque allora modulatori dell'ossilino qui sono certamente non perché Giorgio l'abbia creato questo evento perché io ci credo ci crediamo se no non saremmo qui quasi 300 nel senso sono anni che ci crediamo a maggior ragione alla faccia del premio Nobel il dato 403 iscritti Mauro 400 complimenti complimenti a tutti i colleghi complimenti anche perché è bello spreadere il tempo e diciamo utilizzare il tempo per poterci anche confrontare con questi bellissimi incontri allora guardate gli studi che hanno fatto vedete sapete qual è una delle cose più importanti di studi una riduzione significativa dell'espressione del fattore ipossico attivato cioè non di quello a alfa ma di quello proprio reale combinato e lo studio che aveva fatto la Ferrero e che Giorgio ha citato più volte sapete la cosa che mi impressionò domandai a Giorgio ma la Ferrero Maria l'ha fatto sì certo che l'ha fatto lo studio eccolo là guardate tra i vari diciamo step dello studio meraviglioso che aveva fatto e pubblicato su Journal Fisiology e in Pharmacology guardate cosa c'è scritto al centro il attenzione la risposta alle cellule endoteliali mediata lipossia e dal CF sta per self-food per del sul pazime cosa fa? regola attenzione la subunità H1 alfa oltre a regolare la superossio di smutasi manganese dipendente in pratica questo è veramente importante quindi si dimostra l'azione specifica del prodotto sulla regolazione di passione dell'elano l'ipotia tanto è vero che guardate fra le conclusioni io ho voluto segnare questo guardate sotto esperimenti preliminari poi confermati dalla legina Elena hanno evidenziato risultati interessanti l'effetto della sostanza sulle cellule circolanti i linfociti proprio quando fece lo studio sulla regina Elena al laboratorio di oncologia perché è importante Giorgio ce l'ha fatto vedere tante volte io stesso ma guardate bene uno studio fatto sulle varie linee cellulari le urcemiche e sui tumori spodi bellissimo studio che è visibile della pubblicazione ovviamente che sono state fatte quindi basta richiedere a Giorgio o anche scaricare direttamente sul PubMed guardate la cosa importante c'è proliferazione cellulare apoptosi HIF1 alfa per confermare i dati alla Ferrero ma senza saperli attenzione indipendenti metabolismo cellulare quindi quella è l'espressione dei famosi recettori modificati dall'effetto Warburg LDH e l'attacco ed ecco i risultati guardate la dose di pendenza cioè nelle cellule cioè nel senso nelle cellule la successività all'autoptosi legata alla riduzione del fattore ipossico è proprio stata studiata specificamente il controllo e queste sono le cellule in confronto sia tumorali che delle linee leucemiche guardate questa la cellula tumorale cos'è importante si riprende il partner verso la funzione mitocondiale verso il Krebs quindi lo shift si riporta indietro lo shift glicolitico per andare allo shift ossidativo classico che implica il ciclo di Krebs e poi la susseguente colpo di azione ossidativa e tanto è vero che questo è dimostrato intanto vedete da quella che è l'espressione del recettore Blut 1 anche dell'esochimasi che è stata vista che ovviamente cambiava il metabolismo glicolitico nella cellula tumorale e il secondo vedete proprio perché c'è una riduzione netta della produzione di lattato e con la riconversione in piruvato e questo favorisce ovviamente il famoso diciamo la riconversione alla corretta metabolizzazione ossidativa quindi le conclusioni dicevano questo che i risultati evidenziano una perturbazione della via glicolitica citoplasmatica a favore di quella classica misocondiale rendendo la cellula tumorale suscettibile quindi alla pottosi cosa che prima non lo era e addirittura l'HIF2 come si era visto ne favoriva insieme al suo fratello anche la perfetta diciamo sincronizzazione e quindi questo è importante il potere dare questo prodotto per riconvertire diciamo per risciptare la via glicolitica attenzione voglio concludere con questo argomento perché mi sta a cuore e perché credo a Giorgio di fargli un grosso piacere ma non per un piacere da amico ma a tutti voi tutti ci chiedono vitamine e sistema immunitario se ne dette di cotte di crude in questi giorni col covid anche in maniera non sempre corretta attenzione intanto che sono quelle fondamentali allora per il funzionamento dei dei linfociti di tipo TH1 helper la B12 la A la E la C i TH2 la vitamina D guardate la vitamina B12 ricerche giapponesi hanno messo in evidenza un importante ruolo nella regolazione sistema immunitario in particolare una riduzione del CD8 e l'attività del NK negli stessi soggetti pensate che questi soggetti avevano un deficit di B12 dovuto a un'anemia perniciosa e si era evidenziata questa quindi una riduzione della capacità diciamo citotossica CD8 e l'attività dell'NK gli stessi soggetti quando gli sarà somministrata la B12 adeguata hanno evidenziato un netto aumento della capacità citotossica da parte appunto del di 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 dell'NK la vitamina A i deficit di vitamina A oltre al problema visivo guardate che è molto importante per la vulnerabilità all'infezioni specialmente virali sono stati documentati casi di morbillo per esempio particolarmente severo in presenza di deficit di vitamina A che invece vengono ben controllati su un istanto dosi adeguati di questa vitamina questa maggiore vulnerabilità alle infezioni sembra sia dovuta a modificazioni patologiche delle cellule superficiali delle mufose ma d'altra parte questo è un ruolo della vitamina A per la protezione dei epiteliali infatti le cellule epiteliali carenti di vitamina A producono minori quantità dei famosi mufopolisaccaridi e pertanto vengono sostituiti dal momento della produzione di cheratina quindi più esposti a un attacco soprattutto di lave alla lunga rispatti il vetro danneggia il normale funzionamento del sistema immunitario associato alle mucose che rappresenta forse la più grande porzione del sistema immunitario umano è ben noto che un decido di vitamina A e del suo precursore il beta carotene di fatto induce un'aumentata suscettività alle patologie tumorali vitamina E una serie di studi di animali hanno dimostrato che la supplementazione incrementa la risposta immunitaria lo stesso studio è stato fatto sui bambini e sugli anziani immunodepressi con un incremento significativo dell'attività cellulomedia rilevante il rapporto tra inquinanti vitamina E e la risposta immunitaria studi sugli animali hanno dimostrato che la vitamina E viene richiamata nei polmoni a protezione dei vissuti attaccati agli inquinanti atmosferici gli effetti sul sistema immunitario sono di riduzione della capacità battericida specie nei macrofagi residenti guarda caso negli alvelli cromonali studi fatti in America hanno dimostrato che oltre il 40% pensato alla evoluzione americana ma gli americani su questo qui non ci devono assegnare niente purtroppo sono spesso esempio per il loro anche diciamo introito dietetico un esempio negativo o arriviamo alla vitamina D tanto discussa gli infosciti inattivi non presentano il recettore per la vitamina D il famoso VDL che invece si esprime dopo l'attivazione cellulare analogamente i monosciti non esprimono il recettore VDL per la vitamina D ma lo esprimono quando diventano attivate nei tessuti la famosa polarizzazione in macropagi M1 o poi M2 studi recenti hanno dimostrato che la vitamina D è capace di stimolare quel set di citochine tipiche positive tipo la risposta di TELP2 i TG beta l'interleuchina 4 mentre è incapace di sopprimere la produzione di profilo citochimico quale il TN alpha terperone gamma guardate questa bellissima slide che vi ho trattato da una review un grafico che dimostra l'attività della vitamina D come molecola prosopravvivenza segnale di stress e danni e entra diciamo danni ovviamente cellulari provocati dalla situazione per esempio può essere un'infezione virale diciamo entrano nella cellula e esaltano l'attività della vitamina D contro la risposta allo stress o una risposta antinfiammatoria lo stesso sistema promuove attiva diciamo quella che può essere una tolleranza genica tipo una stimolazione di TELP2 o dei tipi di macrofagi polarizzati di tipo M2 o una risposta antinfiammatoria regolatoria delle cellule T regolatorie ripristinando l'energia e quella si chiama omeostasi os redox quindi questo è il ruolo importante esercitato da una parte sulla soppressione di inflamazione dall'altra sulla regolazione delle cellule diciamo T e non solo le T che possono giocare ovviamente sul sistema immunitario esercitato dal colecalcipelolo che è altro che vitamina questa è una vera e propria molecola particolare a parte il fatto che è già stata vista che era un ormone più che una vitamina e infine concludo la vitamina C dicendole se ne parla hanno detto di tutto e di più sulla vitamina C giornali eminenti virologi guarda caso i virologi ma ora sono diventati di moda fino a poco fa scusate se faccio questa premessa ma parla come sembra di padre eterno quando gli parla della vitamina C ma certamente se si parla di vitamina bisogna smetterla perché le vitamine hanno un ruolo vitaminico quando serve ma questi hanno un ruolo di vere e proprie molecole antinfiammatorie molecole immunitarie quindi veri e propri farmaci nutracerfici quando hanno delle dosi delle azioni ben specifiche un conto del ruolo vitaminico un conto del ruolo in situazioni fisiopatologiche questo molto spesso tanti nostri eminenti colleghi scienziati non lo vogliono considerare ma mettiamo a parlare di vitamina C parliamo dell'aceto di questo latone ciclico parliamo di una vitamina come colica al ciferolo guardate la vitamina C è una cosa è certa numerosi problemi sono legati alla carenza tant'è vero che guardate questo bellissimo slide che vi ho tratto da un lavoro che vi manderò a Giorgio anzi ve lo posso inoltrare proprio che è la vitamina C e funzioni immunitarie contribuisce a disposizione immunitaria sostenendo varie funzioni sia innate che adaltative supporta l'epiterio di barriera contro i fatogeni faulisce l'assumimento dell'ossidante tantissime si accumula le celle fagocitarie come i neofrofili migliorano la chemiofassi la fagocitosi la generazione dei ROS l'uccisione microbica l'uccisione microbica sull'infociti forse ruola un po' meno chiaro ma è stato dimostrato per esempio che migliorano la differenziazione e la proliferazione Mario ma Mauro sei qua ormai sono le 10.20 eh ho 5 minuti e finisco ok ho quasi finito ho proprio l'ultimo e tre slide e probabilmente anche i suoi effetti sulla regolazione di tipo genico quindi guardate la carenza qui sono tutta una serie avete visto di azioni importantissime della vitamina C esercita quindi guardate che va considerata veramente allora attenzione un po' è usata in situazioni acute come è successo anche nei casi di covid in cui è stata somministrata endovenosa anche e lì diventa un farmaco non è nemmeno un utacino diventa un vero e proprio farmaco mi ricordo dell'assorbimento e qui è cruciale che noi dice quante ne dai ma vi ricordo che il trasporto è molto legato a una serie di trasportatori epiteriali nella mucosa intestinale che sono sodio dipendenti oltre un tanto non ne passa vedete questa slide cioè se voi somministrate mille milligrammi è grassa se ne passano 250 milligrammi cioè al massimo generalmente si passano tra i 180 e i 250 milligrammi e allora qual è il modo giusto guardate vi ripeto sempre questo la biodisponibilità è inutile stare a farsi discorsi cioè gioca tantissimo la capacità di un nutriente o di una sostanza di un farmaco di un nutraceutico di un fitoterapico da arrivare nei siti di azione cellulare e in questo caso vedete questa questa slide che fa vedere proprio questo attenzione le migliori la somministrazione spray intraorale con le particelle con loidali supera l'iniezione intrabuscolare tant'è vero che eccoci ma non perché questa è una formulazione giusta come lo sono anche le multivitamini cioè formulazioni spray è stata la forza ovviamente dei prodotti che la Mico Tiziani è con cui mi ha convinto 20 anni fa la prima cosa che mi ha colpito era la biodisponibilità di queste molecole quindi concludo dicendo questo guardate allora importante capire il ruolo ipossia del sistema immunitario come ripristinare il gioco di un'ipossia fisiologica affinché il sistema immunitario possa agire in maniera adeguata come anche somministrare in modo adeguato affinché arrivino nei siti cellulari vitamine chiamo vitamine sostanze che hanno anche un'azione vitaminica ma che possono necessitare un'azione ben tutt'altro antinfiammatoria di sostegno immunitario quando somministrate a dosi adeguate quale appunto l'acido ascorbico il coli calciferolo e i caroteni e anche l'acido folico poi lo vedremo anche come pure la B12 quindi dobbiamo avere una capacità di biodisponibilità cellulare e soprattutto durante la giornata una somministrazione che non permetta queste oscillazioni a picchi come può fare una compressa ma che si abbia una somministrazione continua che assicuri un adeguato livello ematico e cellulare di questi infieri ringrazio tutti per l'attenzione e saluto tutti i colleghi che sicuramente tanti amici che sicuramente sono in linea grazie